La riforma intende realizzare la qualificazione dell'assistenza agli anziani attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità dei servizi e dei percorsi di cura, oltre che l'avvio di un sistema nazionale di accreditamento, lo diceva già prima il nostro amico Giuseppe, sia dei servizi residenziali che di quelli semiresidenziali e domiciliari, accompagnato dalla messa a punto di un sistema di valutazione della qualità della vita garantito agli ospiti e del livello di soddisfazione anche degli stessi, dei familiari, degli operatori e dei volontari, in un processo di verifica dell'assistenza partecipato e democratico. Tutto questo permetterebbe di porre fine al sistema delle gare di appalto, altro nodo storico non solo di abusi e di corruzione, ma anche di pessima qualità di servizi erogati. In altri termini i cittadini potrebbero scegliere nell'ambito di un panorama di attori accreditati e, tra virgolette, stellati, diamo questo tocco di umorismo, o sia valutati anche dalla clientela senza burocratici e inutili intermediari. Sarà ovviamente necessario, ai fini di una realistica implementazione di questa idea, rivedere in profondità il sistema delle tariffazioni sia in ambito residenziale che territoriale e domiciliare. La Commissione, lo abbiamo deciso questa mattina, quanto prima avvierà la creazione di una anagrafe nazionale dell'RSA, delle case di riposo e delle comunità alloggio, al fine di favorire la lotta al sommerso, dietro il quale si nascondono tanti abusi, sia per avviare una sana imprenditorialità all'insegna della trasparenza e della qualità. L'Istituto Superiore di Sanità è già avvertito e inizierà questa ricerca.